Beh, io penso proprio di sì, cioè se mi fanno la multa che sono venuta qua, che ho provato, che ho visto, che è, non credo sia giusto pagarla. E cosa ne pensa di questi atti di vandalismo? Già si parla di Parkman, dopo Flexi... No, è impossibile, speriamo proprio di no, dai.